Salve gente bentornati in un nuovo video Oggi approfittiamo, ottimizziamo un po' i tempi Perché praticamente sono appena rientrato da una ciaspolata su a Caramanico Precisamente siamo arrivati su al rifugio Barrasso La neve non era il top per le ciaspole ma in ogni caso è stata una bellissima giornata Ho approfittato di questo momento, come vedete sono ancora in divisa da escursionista Perché vi vorrei parlare, tra parentesi, spero che questo video osserva a qualcuno, sia d'aiuto a qualcuno Vi vorrei parlare, vi dicevo, del mio zaino e del mio setup, se così si può chiamare Per quanto riguarda le ciaspolate e le uscite invernali Prima di cominciare a mostrarvi il contenuto dello zaino Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere nessuna notifica Nessuna pubblicazione dei prossimi video che ci saranno E vi lascio anche il nickname di Instagram per andarmi a seguire Così vedrete pure i backstage di questi giorni un po' così dietro la videocamera Partiamo prima di tutto dallo zaino che ormai penso conosciate da un po' di tempo Sono già circa un paio d'anni che uso per le escursioni invernali e per le escursioni un po' più impegnative Utilizzo il Mammoth Tryon Advance Uno zaino principalmente da sci alpinismo Nasce per lo sci alpinismo ma comunque anche per delle ciaspolate secondo me va più che bene È uno zaino prettamente invernale Da circa 32 litri Più 5 o 6 litri aggiuntivi che si possono implementare allungando qualche cinghia e espandendo la zona di carico Ma se non ricordo male ne ho parlato un po' più nel dettaglio in qualche video scorso Vi lascio sempre qua sopra Allora non mi ricordo Ci tenevo a dire però che questa non è una legge divina che dovete seguire per forza Questo è il mio modo, il mio metodo di preparazione dello zaino invernale E soprattutto è l'attrezzatura con la quale mi trovo meglio Non ho le ciaspole da farvi vedere qui con me perché lo lasciate giù in garage a scolare Erano piene di neve Insieme alle racchette e ai bastoncini da trekking Che però sono i bastoncini Vipol Quindi anche di quelli farò un video a parte Parliamo adesso semplicemente dell'abbigliamento e dell'attrezzatura Direi di partire dalla tasca esterna Porto sempre un cappello, in questo caso è un cappello di lana Però insieme a questo utilizzo un bel paio di guanti della Forclass Questi presi da Decathlon Sono touchscreen e sono abbastanza comodi Tutta questa roba poi ovviamente finirà in lavatrice Ok, fazzoletti Abbiamo il treppiede della Manfrotto Fedelissimo che ormai mi accompagna da un bel po' di tempo C'è qualche graffe ma è indistruttibile ragazzi Questo è uno dei migliori acquisti mai fatti in ambito fotografico A proposito fatemi sapere se siete interessati magari a qualche video riguardante appunto l'attrezzatura video che utilizzo di solito Se vi può essere d'aiuto scrivetemelo nei commenti Vi ricordo poi che tutta la roba che vedete nel video ovviamente la ritrovate qua sotto Linkata in descrizione Allora, tasca esterna abbiamo finito Vediamo un attimo l'altra tasca esterna È praticamente questa qui Dove tengo un paio di guanti di ricambio Sì, sono dei sottoguanti in realtà Molto leggeri però in caso di vento vanno più che bene Un paio di calzini di ricambio Sempre di quelli tecnici con le zone rinforzate Il coltellino svizzero che ormai lo lascio attaccato qui per comodità Può sempre servire La mia fascia della saleva presa al saleva store di Bolzano Pensate, sono stato a Bolzano e al saleva store tre anni fa Dopodiché Il mio scaldacollo Di questi diciamo che Ne farò qualche ristampa Ve lo prometto Magari per l'estate prossima qualcosa uscirà Poi che altro Un paio di bustine di amochina disinfettante E queste non possono mancare Secondo me se andate con le ciaspole o con i ramponi Sono semplicemente delle fascette da elettricista Perché? Perché queste vi salvano le gambe In caso si dovesse rompere una ciaspola o magari un rampone Quindi non pesano niente e le buttate dentro Passiamo un attimo Mamma mia quanto è lurido questo zaino Passiamo alla parte Al fondo dello zaino Dove oggi Ho messo Il kit del pronto soccorso Del primo soccorso Non mi ricordo mai come si dice E Oh cazzo Si è accesa la luce del Del power bank E qua dentro c'è tutta la roba elettronica Power bank Carica batterie della torcia frontale Carica batterie del cellulare E un piccolo cavo per la Sony Che porto di solito Tutto ciò dentro la sacca impermeabile Queste sono miracolose Ve le ho lasciate in descrizione in un altro video Ma ve le linko comunque qua sotto Vediamo di spegnere la luce Esternamente abbiamo finito con l'attrezzatura Ma andiamo a vedere la parte interna dello zaino È assolutamente confusionaria Quindi Imparate a gestire gli spazi e i carichi Meglio di me Mi raccomando Vi prego Questo è un grandissimo piumino della Simon Dagli 8 ai 10 gradi sotto zero Arriva fino a meno 10 gradi Però sapete bene che il piumino nel caso nostro Quindi nel caso stessimo facendo uno sforzo abbastanza prolungato Come può essere una salita invernale O una ciaspolata particolarmente impegnativa Questo vi fa fare la schiuma sotto Quindi di solito lo utilizzo una volta che sono arrivato al rifugio Comunque nei momenti di soste prolungate Oggi ho portato anche un guscio Una sorta di guscio Ma in realtà è un antivento Con una sorta di imbottitura un po' più pesante È un antivento leggermente più termico Ha delle prese d'aria proprio qua sotto alle ascelle Per arieggiare meglio E oggi però ho constatato che in effetti è un po' troppo caldo Per i miei gusti Avrei dovuto portare l'altro antivento Che è quello diciamo estivo Questo pure va in lavatrice Poi Questa era In realtà è la sacca impermeabile In cui tengo sempre Una maglia termica asciutta di ricambio Tipo questa Sì più o meno Ok Che adesso è fradicia Che è quella che portavo durante la salita Questa poi è quella asciutta In realtà Quindi Una maglia termica maniche lunghe Un micro pile Anche questo Di ricambio Perché Perché si suda raga Perché si suda Oggi c'era pure il sole Anzi strano che non mi sono ustionato Pare di no Tutto ciò dentro una sacca impermeabile Ovviamente per evitare che l'acqua La neve Lo scioglimento dei ghiacciai Possano Come dire Intaccare I nostri vestiti asciutti Sacca del cibo Pure questa Impermeabile È comodissima Io ormai Sono anni che organizzo tutto Con le drive E mi trovo benissimo Non manca Ormai da qualche mese A questa parte Il mio materassino In realtà questo era Un materassino in gomma Sì uno schiumino Di quelli economici Da mettere sotto Il materassino gonfiabile Per le notate in tenda Però io l'ho ritagliato E riadattato Me lo porto E mi ci siedo sopra Su terreni Bagnati e fangosi È una figata Se ne vendono anche Di quelli piccolini Però io Non ce l'avevo Ho detto Proviamo a fare Quest'altra attacca Ovviamente Cartina del parco Della Maiella Perché oggi sono stato Sulla Maiella Ma di queste C'è una collezione Enorme Ok Passiamo al reparto Acqua, cibo e bevande Ho portato Una borraccia Con un litro d'acqua No Non utilizzo D'inverno La mia Fedelissima Camelback Della Salomon Perché Semplicemente Perché Non bevo mai Due litri di acqua Durante le uscite invernali E soprattutto Questa La tengo Dentro lo zaino Mi si mantiene Ad una temperatura Un po' più Normale In realtà Il tubicino Della Camelback Esternamente Rischia di ghiacciarsi Ho provato In passato A utilizzare La protezione Nella coibentazione In neoprene Ma non era Granché Come soluzione Quindi Quest'estate A primavera Tornerò con lei Sulle spalle Che è comodissima La Camelback Ma voi poi Siete tipi da Camelback O siete tipi da Borraccia Voglio Voglio creare Un po' di Polverone Reparto Bevande calde Oggi Ho portato Il mio Kit Da cucina Bombola del gas E fornelletto Della Tox Titanium Costato Un occhio Della testa Ma Super leggero Super compatto Questo ve l'ho Fatto vedere In un altro video E qua dentro C'è tè Caffè Accendino E appunto Il fornelletto Arrivati su Ci siamo fatti Un bel tè caldo Ed è stata Una meraviglia Comodo Ma Se non avessi voglia Di portarlo Con me Nelle uscite Di solito Porto Il termos Che sta qua dentro Non ci arriva Non ho voglia di prenderlo Tazza in legno Per bere Acqua Vino Tè Quello che volete Questa è una tazza in legno Una Cucsa Esattamente Una tazza Sammy Per chi non lo sapesse Di solito Si intagliano Dai Tronchi di betulla Io questa l'ho comprata Perché mi piaceva E' una figata Poi Il legno Is better Ovviamente ragazzi Colui Il capo supremo Il guscio Questo sta dentro Il mio zaino Bello Rilegato Con un elastico Lo tengo sempre A portata di mano In estate In inverno È l'unico capo Di abbigliamento Che non tolgo mai Dallo zaino Perché questo Vi salva la vita Sia come antivento Sia come antipioggia E come riparo Ok Abbiamo finito Sì Abbiamo Definitivamente Svuotato Svuotato Lo zaino Qualche piccola Precisazione Questo è il mio setup Estremamente personale Come ogni setup Come ogni impostazione Dello zaino Dell'attrezzatura E dell'abbigliamento Più in là Probabilmente Farò un video Sull'ABC Di come vestirsi in montagna Era solo per mostrarvi Un attimo Cosa porto di solito Mancano all'appello Leggette Perché ho addosso i pantaloni Decathlon Sempre della Simon Da alpinismo Che hanno le ghette incorporate Come base di partenza Come abbigliamento di partenza Di solito Utilizzo una Base layer Quindi un primo strato A contatto della pelle Sarebbe una maglia termica A maniche lunghe Che mi aiuta A far fuori uscire Il sudore Verso l'esterno Un micro pile Con apertura Frontale Magari è preferibile È leggermente più comodo E sopra Un antivento E poi ovviamente ragazzi Va modulato Tutto l'abbigliamento Durante la salita Durante la discesa Va assolutamente modulato Per cercare di sudare Il meno possibile Di rimanere Il più asciutti E il più Comodi Possibile Ok Credo che sia tutto Per oggi Bene ora mi tocca Rimettere tutto a posto Come sempre Quello che gli escursionisti Non dicono Vado a lavare questa roba Spero il video vi sia piaciuto Mi raccomando Iscrivetevi al canale Seguitemi su Instagram Qualsiasi domanda Potete farmela lì O anche tutto nei commenti Alla prossima No raga scusate Mi sono scordato Di dirvi Che calzini uso Vabbè sono calzini In lana Merinos Decathlon E Sono super caldi Super comodi E vabbè Insomma Questo è un altro discorso Parleremo più in là Delle calze da tracking Ciao Ciao Buongiorno 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 Buongiorno